Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Litto e non siamo benvenuti su Kingdom Hearts Union Cross ma siamo benvenuti in un vlog, praticamente ormai sta diventando una prassi ogni 10 giorni faccio questo video no, non è ovviamente un'abitudine, è semplicemente una necessità di dirvi che sì, vado via ancora, vado via da domani 24, infatti qui sto registrando nella notte tra il 23 e il 24 e tornerò il 29 circa, quindi probabilmente rientrerò verso la fine di agosto sappiamo che deve uscire un banner stanotte, molto probabilmente per Kingdom Hearts Union Cross che probabilmente saranno le Tsum Tsum Medals mi dispiace non potervi dare delle informazioni precise su quel banner, anche perché non sappiamo la formula con cui arriverà spero eventualmente di potervi dire qualcosa tramite Twitter, comunque l'ho trovato in descrizione, il mio profilo di Twitter e eventualmente poi si ripartirà a settembre con probabilmente la prima medaglia Tier 6 in Giappone avranno finalmente il loro anniversario, quindi si faranno le speculazioni eventualmente se si tratterà di una nuova Kairi o quant'altro e che dire ragazzi sono veramente carico anche io di sapere come si evolverà la faccenda soprattutto per la versione giapponese del gioco e appunto perché così potremo fare due conti su quello che uscirà e sui gioielli che andremo a spendere in gioco dunque attenzione perché sì, stasera uscirà il banner nuovo o forse no, forse venerdì non lo sappiamo precisamente anche se credo che stanotte si concluda un altro banner, quindi molto probabilmente arriverà il nuovo banner forse può arrivare una nuova High Score Challenge, dato che non mi ricordo nella versione giapponese che le Tsum Tsum fossero assieme a Sephiroth EX, quindi potrebbe esserci questo cambio, potrebbe esserci una High Score Challenge in mezzo magari con The Man Wearing a Black Coat, quindi Young Xanoth per intenderci e che altro dire? Boh, il resto lo scopriremo solo vivendo ragazzi, mi raccomando non impazzite senza di me, so che siete tutti bravissimi comunque, però spero che la mia mancanza non vi crei dei danni all'interno del gioco nel dubbio sapete che vale la pena sempre aspettare le Tsum Tsum, forse avevo detto qualcosa prima vale la pena solamente se si tiene Sora e Riku con un buon trait, altrimenti le altre sono tutte quante mediocre o già esistenti sotto altre forme all'interno del gioco, quindi lo sapete forse può valer la pena aspettare per Sephiroth EX, soprattutto perché saremo tentati dai 3000 Jewels e dal Fantasia Mickey B che otterremo tramite la campaign che c'è stata col tweet, che c'è stata su Twitter appunto dunque ragazzi, come vi dicevo, se volete seguirmi su Twitter, lì magari darò delle informazioni in più su quello che ci sarà da fare, dato che mi sarà assolutamente impossibile fare video dove sarò in vacanza se mi trovate in giro magari salutatemi, anche se ovviamente siamo un pubblico super iper ristretto però chi lo sa ovviamente non mi aspetto niente di che e mi raccomando ragazzi, noi ci vediamo direttamente o il 29-30-31 soprattutto se usciranno Highscore Challenge o sfide particolari altrimenti direttamente a settembre, molto probabilmente con la prima tier 6 aka Sephiroth EX lasciate un bel mi piace per farmi capire che comunque vi augurate una buona vacanza ho anche un buon commento per farmi sapere che cosa ne pensate del fatto che vada via ancora so che è brutto che vada via due volte in un mese, però ragazzi ad agosto è dove un po' tutti cercano di staccare la spina quindi abbiate un attimo di pazienza e siate contenti anche per me e sono contento se voi tutti quanti andate in vacanza, ve lo auguro assolutamente direi che questo è tutto e noi ci rivediamo in un prossimo video riguardante Kingdom Hearts e Kingdom Hearts Union Cross alla prossima e ciao ciao ciao